Dio ci benedica insieme e anche oggi ci rivolgiamo alla parola del Signore per meditarla insieme. Oggi parleremo di un passo meraviglioso nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 14 e dal verso 15 leggeremo le promesse di consolazione che il Signore Gesù trasmise ai Suoi discepoli sapendo anche l'ora difficile che avrebbero attraversato da quel momento in poi vedendolo crocifisso sulla croce. In questi momenti di grande intima comunione con il Signore Gesù Gesù trasmette ai Suoi parole di grande conforto, di grande consolazione e la consolazione non si è limitata certo ai discepoli del tempo ma è giunta fino a noi perché noi come loro siamo eredi di una stessa promessa. Leggiamo allora dal capitolo 14 di Giovanni a partire dal verso 15 e leggeremo fino al verso 21. Se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani tornerò da voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. In questi momenti di grande comunione, momenti che precedono poi la crocifissione, Gesù ha questo grande momento di intimità con i suoi. E' straordinario perché perché Gesù che con grande umiltà si era incarnato per compiere l'opera meravigliosa della redenzione vive con i suoi come il massimo traguardo che gli possa raggiungere con gli uomini sulla terra. Cosa intendo? Intendo dire che così come è descritto anche nell'Evangelo di Luca in maniera ammirabile, Gesù cercava un rapporto di profonda intimità con i suoi. Egli è l'Onnipotente, il creatore di coloro con i quali spese la sua vita e soprattutto gli ultimi tre anni della sua vita. Ma non c'è questo distacco ma piuttosto il contrario e lo vedremo nel commento di questo passo. Il desiderio di unirsi intimamente con loro, la gioia di Dio nella comunione con i suoi redenti, con i suoi figli. E questo è uno degli aspetti che dovremmo considerare molto a lungo perché Dio trova il suo compiacimento nella comunione con noi. E quello di cui noi abbiamo veramente profondamente bisogno è non solo di conoscere a fondo, di essere consapevole di questa verità ma soprattutto di goderla ogni giorno. Molte volte vado con la mente a quei momenti dell'ultima cena, quegli ultimi momenti spesi insieme di grande intimità in cui il Signore aprì il cuore e manifestò tutto il calore, il calore di un padre che raccoglie a sé i suoi, i suoi figli come il momento più bello della sua vita prima della morte. Ebbene questo calore che Cristo ha manifestato verso i suoi discepoli è il calore che ancora conserva e che desidera ancora vivere con noi. Ecco perché la parola di Dio ripetutamente giunge a noi invitandoci a coltivare profondamente il nostro rapporto con Dio perché egli è padre e come padre egli vuole gustare l'intimità e la comunione con i suoi figli. Un po' come il padre della storia del figlio al prodigo che sebbene il figlio si fosse comportato in modo profondamente disdicevole. Egli era comunque alla finestra ad aspettare il suo ritorno e quando egli fece ritorno anche se dopo un lungo tempo egli lo vide prima ancora che potesse avvicinarsi alla casa proprio per il grande desiderio che Dio aveva di riavere comunione con lui e di riabbracciarlo. Questo sentimento è vivo e nei capitoli che vanno dal 13 al 14 al 15 e poi di seguito fino al 17 dove c'è quella bellissima preghiera che Gesù fa in nostro favore noi scopriamo un amore forte intenso accorato di Cristo e questo amore è l'amore con il quale Cristo ci ha amato quell'amore che lo ha portato sulla croce e questo amore è per noi fonte di gioia perfetta di sicurezza eterna e sapete noi non riusciremo mai ad abbracciare pienamente la grandezza dell'amore di Dio. Nella lettera agli Efesini l'Apostolo Paolo prega che noi siamo messi in grado di abbracciare questo amore di conoscerlo ma questa conoscenza, questa capacità di abbracciarlo certo si completerà forse nell'eternità ma è così immenso, così glorioso che i doni che egli ci ha provveduto, la grazia, la cura che egli ha per noi sono così alti, grandi che sfuggono alla nostra comprensione. Ma Gesù ci garantisce questo, egli ci ama di un amore profondo e gioisce nell'avere comunione con noi. E allora accostiamoci a lui, accostiamoci con fiducia perché le condizioni per poterci accostare a lui serenamente e con piena fiducia non sono dipese da noi né dipenderanno da noi ma dipendono da quello che Cristo ha compiuto sulla croce e quell'opera è perfetta e sempre lo sarà. Ecco perché noi sappiamo di essere perfettamente accettati dinanzi a lui. In questo brano Gesù pone enfasi sull'amore più volte e al verso 15 dice se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. Questo è una delle prime riflessioni che Gesù fa con i suoi perché quello che lui intende realizzare con i suoi discepoli è un rapporto fondato sull'amore. Ma l'amore verso il padre ha delle caratteristiche e le caratteristiche dell'amore sono l'obbedienza e la vera fiducia in lui. È interessante come nella parola di Dio fede, amore ed obbedienza siano legate in modo indissolubile. La fede e l'obbedienza sono considerate una stessa cosa nella parola di Dio. Così come l'amore Gesù sempre lo presenta come qualcosa che deve condurre necessariamente all'obbedienza. Volendo fare un esempio è un po' come una fiamma. La fiamma ha in sé la luce e il calore. La vera fede, quella che trasmette al credente le grandi ricchezze che Cristo ha acquistato per tutti coloro che credono. Ecco la vera fede si manifesta sempre nell'amore per Dio e nell'obbedienza. Queste sono le caratteristiche reali, i frutti che Dio vuole cogliere da chiunque afferma di credere, cioè di avere quella fede, quella fede che salva. Ebbene questi aspetti per noi sono importanti perché perché la nostra relazione con Dio che riesce a realizzarsi, a concretizzarsi per mezzo della fede, la fede che porta all'unione con Dio, alla realizzazione di questa salvezza che Cristo ci ha acquistato, ha sempre delle caratteristiche che si identificano dai frutti che recano. E la fede salvifica deve portare sempre con sé un grande amore per Dio che si manifesta nell'obbedienza. E questo è un aspetto importante. L'amore obbedisce, la fede è unita all'obbedienza e la vera fede manifesta proprio questi frutti, amore ed obbedienza. E voglia il Signore spingerci a cercarli sempre. Perché? Ma perché nella vera fede ci sono tesori infiniti e gloriosi. Andando avanti nel testo, sapendo che da lì a poco Gesù sarebbe morto, egli dice io pregherò il Padre per coloro che mi amano, per coloro che vivono nella fede ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Un altro come me. Dio, lo Spirito Santo che dimori con voi, dimori in voi per sempre. Vedete, la promessa della presenza dello Spirito Santo in noi è legata a delle condizioni meravigliose. La presenza di Dio in noi per mezzo dello Spirito non è saltuaria, non è episodica e non è neanche condizionata da ciò che noi facciamo. Io pregherò il Padre e pregherò il Padre perché lo Spirito Santo sia con voi per sempre. Per sempre in virtù di non ciò che voi siete o ciò che voi fate, ma pregherò che lo Spirito Santo sia con voi sempre in virtù di ciò che io ho compiuto sulla croce. Perché io ho soddisfatto tutte le condizioni che permetteranno allo Spirito di Dio di dimorare con noi sempre, di essere sempre presso di noi. Oh certo, il frutto di questa presenza dipende molto dal modo in cui noi ci relazioniamo a Lui, dal modo in cui la nostra fede appunto obbedisce, ama Dio e si dispone alla relazione con Lui. Più ci dedichiamo, più, usando un termine biblico, ci consacriamo a Lui, più dedichiamo la nostra vita a coltivare questo rapporto, a conoscere di più questo Consolatore, più certo la sua presenza produrrà frutto nella nostra vita. Ma la cosa gloriosa è che la parola di Dio ci dà questa realtà gloriosa e meravigliosa. Lo Spirito di Dio sarà con noi sempre, in modo da sostenerci nei momenti difficili, da rialzarci nelle nostre cadute, da consolarci nei nostri dolori, da guidarci nei momenti di disorientamento, dall'essere per noi quella forza che a volte manca quando affrontiamo delle situazioni. Il Consolatore è con noi e Cristo, quando ha compiuto quella meravigliosa opera di redenzione sulla croce per noi, aveva proprio questo nel suo desiderio, quello di compiere un'opera che ci mettesse in una condizione di straordinaria benedizione. E queste sono le benedizioni che Dio ci ha acquistato e credetemi, io credo che se meditassimo a fondo su questa promessa, il fatto che per mezzo di Cristo Gesù noi abbiamo lo Spirito Santo dimorante in noi e con noi per sempre, questa sola promessa, se assaporata e gustata fino in fondo, basterebbe a saziare il nostro cuore in modo esuberante, eterno e glorioso, in ogni circostanza e affrontando ogni situazione. Perché? Perché Dio promette per mezzo dello Spirito di comunicare con noi, di trasferire in noi il carattere di Cristo, quelli che sono appunto i frutti dello Spirito Santo e non solo ma di manifestarsi, lo vedremo, di manifestarsi nella nostra vita. Cristo ha promesso i carismi, ha promesso la comunione con Dio, ha promesso che nella dimora dello Spirito di Dio in noi ci sia una comunione reale, profonda, concreta, intima, vera, al punto che Dio entra in contatto personale, intimo e profondo con il credente. Vedete, la Bibbia è il libro più diffuso al mondo, ma oimè è anche quello a volte meno conosciuto. In intere nazioni che si definiscono cristiane c'è l'idea di un Dio che è nascosto, intangibile e irraggiungibile, con il quale non si possa relazionarsi mai perché è lontano, oltre il confine della nostra capacità di raggiungerlo. Ma questo non è affatto vero, da principio alla fine la parola di Dio dice esattamente il contrario. Dio cerca l'uomo perché vuole redimerlo e perché vuole ristabilire la comunione che il peccato ha interrotto e la parola di Dio è piena del contatto di Dio con gli uomini, fino al culmine, al culmine in cui Cristo, morendo sulla croce, apre la via per tutti coloro che credono per avere un'intima profonda comunione con Dio, proprio come i santi della Bibbia hanno gustato. Questo è il senso profondo, questa è la verità. E Gioele, il profeta, lo aveva annunciato centinaia d'anni prima della venuta di Cristo dicendo appunto per bocca del profeta il Signore disse io spargerò il mio spirito su ogni carne, su tutti coloro che credono, che si dispongono. E noi abbiamo quindi nel Signore un tesoro da riscoprire, da vivere, da gustare ed è la comunione intima con il suo spirito. E questo è per noi qualcosa di glorioso, di meraviglioso, perché Egli dimora con noi sempre, in ogni momento. E non solo è al nostro fianco per difenderci, per incoraggiarci, per guidarci, per consolarci, ma è dentro di noi per trasformarci e per essere quella forza, quelle virtù che a volte a noi mancano. Lo Spirito di Dio è tutto questo per noi e questo noi dobbiamo scoprire ed è per questo che dobbiamo dedicarci alla conoscenza di Dio. Conoscere Dio è quello che il Signore desidera, è quello che Dio vuole ricevere come tributo di lode e gloria e di adorazione. Nel conoscere Dio, Dio trova il suo compiacimento ed è questo quello che dobbiamo scoprire sempre e sempre di più. E Dio ha mandato lo Spirito di Dio per non lasciarci orfani. Egli sapeva che con la sua morte, con la sua ascesa al Padre, i discepoli avrebbero avuto un momento di grande disorientamento. L'opera, certo, di redenzione era compiuta, ma come muoversi nel mondo, come poter raggiungere quel grado di perfezione che li avrebbe messi in grado di compiere il mandato che gli era stato affidato e non solo, ma poi quello di crescere all'immagine di Cristo sempre. Era un'impresa impossibile ed è per questo che Gesù dice io vi manderò un consolatore. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ora in questa frase, non vi lascerò orfani, c'è tutto un mondo che si apre. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Certo, parla anche della presenza dello Spirito di Dio, di questa comunione che non sarà interrotta per il fatto che Egli sarebbe asceso al Padre, perché per mezzo dello Spirito di Dio questo contatto sarebbe rimasto sempre vivo. Cristo dimora nei cuori dei credenti per mezzo dello Spirito. Ma c'è anche da considerare il fatto che Egli stava annunciando il suo ritorno, nel senso della sua resurrezione. Egli tornerà per dimostrare che il sacrificio sulla croce è stato perfettamente accettato e ha compiuto perfettamente. Egli ritornerà infatti poco dopo ai suoi discepoli, dopo la morte, per attestare che l'opera di redenzione è stata compiuta. Quindi c'è questo ritorno. È un po' anche un annuncio del suo ritorno futuro, quando verrà per rapire la Chiesa, per stabilire il suo regno sulla terra. Ma c'è qualche cosa in questo non vi lascerò orfani che apre il cuore del credente che medita profondamente la sua parola. E sta nel fatto che il Signore annuncia che per mezzo della croce, di quel sacrificio glorioso, Egli ci avrebbe adottati al Padre come figli. E questo lo ritroviamo anche nella preghiera sacerdotale, quando dice affinché il mondo sappia che tu li hai amati come ami me. Vedete, noi in Cristo non siamo più orfani. Potremmo trovarci nelle situazioni più disperate, in un deserto arido, ma non saremo mai soli. Perché l'amore del Padre ci lega a Lui con vincoli indissolubili. Né cose presenti, né cose future, né morte, né vita, potrà mai separarci dall'amore che è in Cristo Gesù. L'amore che il Padre ha per noi è un amore che io e te non potremmo, come dicevo, misurare. Ma Gesù riesce ad esprimerlo bene quando dice tu li ami come ami me. E questo ci dimostra che Cristo ha fatto qualcosa di straordinario. Ha preso degli orfani lontani, abbandonati a se stessi nella loro condizione di peccato, separati da Dio. Li ha presi e ne ha fatti dei figli per Dio. E tali siamo. E in questa condizione noi possiamo unirci all'Apostolo Paolo e affermare in Cristo noi abbiamo tutto pienamente. Perché? Ma perché in Cristo siamo stati resi figli di Dio. E in una rinnovata comunione, perfetta comunione, siamo divenuti figli e quindi eredi di ogni bene. E questa condizione è per noi il massimo. Ed è in questa condizione che noi dovremo proiettare la nostra vita per comprendere in maniera profonda quale sia la nostra condizione. È imparare a gioire della gioia ineffabile che si ha nella salvezza. Perché questa condizione, questa condizione ci mette appunto nello stato di poter gioire sempre. Io ho imparato a essere contento in qualsiasi stato io mi trovi, diceva l'Apostolo Paolo. Perché? Ma perché la sua gioia non derivava dalle condizioni nelle quali umanamente si ritrovava. La sua gioia riposava in questa verità, che in Cristo Gesù egli era stato reso figlio di Dio, quindi redento, perdonato e reso erede di ogni bene del Padre. E questo lo proiettava in una dimensione nella quale la gioia regnava. Ed ecco perché mettendo a confronto degli opposti egli descrive la sua vita che pure era fatta di sofferenze, di dolore, di difficoltà, di persecuzione. Eppure dice in tutte queste condizioni io ho trovato consolazione, gioia, allegrezza. Perché? Perché per quanto il dolore potesse essere forte, il dolore che le circostanze mi procuravano, la gioia del sapere chi sono in Cristo era così grande, potente e forte da riuscire a lenire, a curare ogni sofferenza, lasciando nel mio cuore inalterata la gioia ineffabile del Signore e della salvezza. Ecco vedete noi abbiamo bisogno di vivere in questa realtà. Infatti il Signore prosegue dicendo ma voi vivrete perché io vivo e voi vivrete. Ora vedete anche questo apre la porta alla comprensione di un grande ventaglio di verità. La vivificazione dello Spirito. Egli vi ha vivificati voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati. Perché? Perché spiritualmente eravamo morti ma in Cristo siamo stati resi viventi, siamo stati rigenerati dall'opera dello Spirito, nati di nuovo, siamo nuove creature. E questo è dovuto al fatto che Cristo è risorto e essendo risorto ha completato quest'opera di redenzione sulla croce e ha dato vita a coloro che erano morti, tra i quali tutti noi eravamo un tempo. Ma parla anche del fatto che un giorno, così come Cristo è risorto, noi risorgeremo. Ed è questa la certezza, lo Spirito che ha vivificato Cristo portandolo di nuovo in vita, un giorno vivificherà anche i nostri corpi mortali per dare una vita perfetta, la redenzione del corpo con un corpo glorificato che vivrà per sempre alla presenza del Signore. E questa ci parla appunto della vita eterna che dimora nei cuori, dimora al presente nei cuori di chiunque crede. E vedete queste sono le gioie che dovrebbero caratterizzare la nostra vita. E c'è un ultimo aspetto di questa affermazione che colpisce il nostro cuore. Ed è il fatto che Gesù stesso disse un giorno, nel Vangelo di Giovanni, lo stesso Vangelo, pochi capitoli prima, disse io sono venuto affinché abbiano vita e vita ad esuberanza. Ora vedete quando la meditazione di queste cose diventa realtà percepita per mezzo della fede, della fede salvifica di cui parlavamo prima, in noi non può che esserci una vita esuberante. Perché? Ma perché queste cose riempiono la vita di chi crede. Sapere che queste verità Dio le ha realizzate in noi per mezzo di Cristo e che egli le ha messe in atto per la sua propria volontà, prima che ancora i mondi fossero fondati. Rende il nostro cuore pieno di gioia esuberante, di gratitudine, di vitalità, perché sappiamo che in Cristo abbiamo tutto pienamente. E questo ci spinge a cercare ancora di più quella unione con il Signore. E vedete la parola di Dio parla dell'unione con Cristo. Più avanti nel verso 20 Gesù dirà e voi conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. La profondità di questi di queste affermazioni ci sfugge nella sua pienezza. Ma sappiamo che c'è una realtà che lega Dio a coloro che ha redento in un'unità, in una intimità che se coltivata può portarci a raggiungere vette straordinarie e gloriose di comunione, di conoscenza, di esperienze con il Signore. Perché Egli vuole che questa unità tra noi e Lui sia straordinaria. Egli arriva a dire non solo che Lui dimora in noi e noi siamo in Lui per mezzo della croce, innestati in Lui, ma parlerà di se stesso e della Chiesa come di uno stesso corpo di cui Lui è il capo e noi siamo le sue membra. Arriverà a dire, paragonando attraverso l'Apostolo Paolo, la Chiesa ad una sposa e Lui allo sposo. Così come la sposa e lo sposo sono una stessa cosa, così la Chiesa e Cristo sono uniti. Vedete, Dio brama, desidera che questa unità viva in noi profondamente e che possiamo scoprire non solo la gioia che c'è nella comunione con Dio, ma scoprire un aspetto che forse molte volte a noi sfugge, che Dio gioisce nella vera comunione con noi. E questo ci mette in una condizione, in una dimensione di vera beatitudine. Noi dobbiamo meditare, conoscere, scoprire queste verità, perché sono la gioia della nostra vita. E vi lascio con l'ultimo verso che abbiamo letto, il 21, che dice, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Vedete, io, dice Gesù, mi manifesterò a Lui. È qualcosa di personale, è qualcosa che Dio vuole realizzare con ogni credente in particolare. Ed è una promessa viva e reale che Dio desidera che sia vissuta dal credente. E oltre a questo ci parla di una manifestazione che è reale, non immaginaria, ma reale, non evanescente, ma concreta. Ebbene, questa manifestazione si realizza nell'amore perché chi mi ama sarà amato dal Padre mio, io lo amerò e come conseguenza mi manifesterò. Vedete, quando noi impariamo ad amare Dio e impariamo a volgere verso di Lui tutti i nostri desideri, io vi dico che questo amore produrrà nella nostra vita la manifestazione di Dio. La manifestazione è attraverso la nostra vita perché la nostra vita sarà ricolma di una gioia esuberante, sarà ricolma del suo amore, delle sue virtù, ma anche perché in realtà Dio manifesterà se stesso per mezzo dello Spirito, rivelando e rivelandosi alla nostra vita le grandi verità che caratterizzano la persona divina. E questa conoscenza è il viaggio più bello che un uomo possa mai intraprendere. E io vi invito a non allontanarvi mai dal meditare queste verità. Vi consiglio, rileggete questo brano. Rileggete tutto il capitolo 14 e meditatelo accuratamente. E mentre lo leggete dite a voi stessi seppure la fede che è in Cristo vi arredenti. Questa è la verità che Cristo ha acquistato per me e in questa verità io ho tutto pienamente. Voglia il Signore consolare i vostri cuori con queste verità e rendere il vostro cuore ripieno di una gioia ineffabile. Rivolgiamoci al Signore in preghiera. Signore noi ti ringraziamo e come potremmo non farlo per ciò che tu hai fatto per noi. La tua gioia riposa nei nostri cuori e la tua gioia Signore è pace perfetta ed esuberanza di vita in noi. Ti preghiamo fa sì che gli occhi del nostro cuore siano aperti per riconoscere appieno quale sia la gloria della nostra eredità che tu ci riservi tra i santi. Quale sia Signore l'immensità della tua potenza che opera in noi. Quale sia la vastità del tuo amore e la ricchezza della vita che hai disposto in noi nel tempo e per l'eternità. Signore fa che questi siano gli argomenti oggetto della nostra meditazione ogni giorno affinché ripieni di questa verità possiamo manifestare al mondo la gioia ineffabile della salvezza. Guida i nostri cuori in questo perché vogliamo Signore parlare di te a chi non ti conosce mediante i frutti della tua presenza in noi. Guidaci in questo Padre e di cuore ti diciamo grazie per l'opera di redenzione grazie per Cristo Gesù grazie per la croce nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica e ci faccia gioire nella sua verità. Grazie a tutti.